Un'intera città intenta a spalare la neve. Mezzi in azione giorno e notte, mobilitato anche l'esercito. D'altronde non se ne era mai vista così tanta finora nella capitale russa. Mosca continua a collezionare record. A dicembre soltanto 6 minuti di sole, adesso la più grande nevicata mai registrata. Quasi 40 centimetri in un giorno solo, neanche nel 1957 si era arrivati a tanto. Le precipitazioni sono proseguite per tutto lo scorso fine settimana e altre sono previste nei prossimi giorni. Tanti disagi, ma c'è anche chi resta incantato oppure riesce a trovare i lati positivi. Tutti i vicini si sono riuniti, ci hanno dato la mano, l'aiuto, sono andati fuori a pulire queste strade da neve. Praticamente questo piccolo cataclismo che è arrivato, ho riunito la gente e questa è stata una cosa bellissima. La neve però ha bloccato gli aeroporti e continua a creare problemi alla circolazione. Sono di nuovo ferma, si lamenta Tatiana. Stavo parcheggiando l'auto e adesso non riesco più a ripartire. L'emergenza causata dalla nevicata del secolo, come l'hanno ribattezzata, non è ancora passata. Adesso i maggiori pericoli arrivano dai tetti o dai rami che cascano sotto il peso della neve. Già una persona è morta e 5 sono rimaste ferite a causa del crollo di almeno 2000 alberi. Basta guardarsi in giro per rendersi conto della situazione, dice Dmitri, ma è sempre così. Quando arriva l'inverno non chiede permesso.